Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di finocchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono finocchi tagliati a pezzetti, patate tagliate a pezzetti, acqua, dato vegetale bimbi, olio evo, cipolla, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere i finocchi, le patate, il pepe, il sale, il dado e l'acqua. e cuocere con il cestello al posto del misurino per 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. Rimuovere il cestello, chiudere con il misurino e omogenizzare per 20 secondi a velocità 10. la vellutata è pronta, impiattare e servire. Vellutata di finocchi, grazie e alla prossima ricetta. Vellutata di finocchi, grazie a tutti. Grazie a tutti.